Sottotitoli e doppiaggio Carlo Fanni Padre Celeste, è un privilegio inchinarsi alla Tua presenza. Grazie per il nostro grande intercessore, Gesù Cristo. Grazie per lo Spirito Santo. Grazie per i Santi Angeli. Senza il nostro grande intercessore non avremo speranza. Grazie per averci fatto superare un altro sabato, un'altra settimana. Stiamo per iniziare questa nuova settimana. Siamo felici che Tu conosca la fine dall'inizio. Oggi affermiamo la promessa e recitiamo le parole del Salmo, capitolo 23. Il Signore è il mio pastore, nulla mi mancherà. Sì, il nostro pastore per tutta la settimana. Noi crediamo che Tu provvederai ai nostri bisogni. Oggi noi cerchiamo prima Te e la Tua giustizia. E come hai promesso, tutto ciò di cui abbiamo bisogno ci sarà concesso. Grazie per rispondere. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Andiamo ad Apocalisse, capitolo 13. La COP28 è ormai finita. Era dal 30 novembre al 12 dicembre 2023. Loro chiedono la fine dell'uso dei combustibili fossili. È possibile che questo appello sia solo del fumo negli occhi? Credo che loro sappiano che la maggior parte delle nazioni che hanno aderito all'accordo sul clima di Parigi non porranno fine ai combustibili fossili. Può essere che il papato che orchestra tutto in realtà stia tenendo un elenco di cose? Depennando le varie voci. Per esempio, abbiamo provato questo, ma voi non siete stati d'accordo. Abbiamo cercato di eliminare i combustibili fossili, ma la maggioranza non ha aderito. Quindi c'è solo una possibilità su cui siamo tutti d'accordo, riposarci un giorno alla settimana. Quindi questo movimento per abolire combustibili fossili e combattere il cambiamento climatico passerà alla domenica senza combustibili fossili. Questo è il momento per cui COP28 sarà ricordata. Nessuna obiezione. Così è deciso. Riconoscimento dei combustibili fossili e il cambiamento climatico, ma nessun impegno per eliminarli. In questo vertice sul clima c'era una grande aspettativa che, per la prima volta, si fosse richiesta l'eliminazione graduale o almeno una riduzione graduale dell'uso di combustibili fossili. Ma la bozza presentata non menziona le parole petrolio, gas, oppure eliminazione o riduzione. La decisione sostenuta da tutte le nazioni del mondo richiede l'abbandono dei combustibili fossili nei sistemi energetici per raggiungere lo zero entro il 2050. E ci sarebbe piaciuto? Molte persone qui avrebbero voluto più chiarezza per ridurre i combustibili fossili in questo decennio critico. Ma sappiamo che si tratta di un compromesso tra molte parti. Alla COP28, Papa Francesco chiede la fine dei carburanti fossili. Nell'ultimo appello sul clima, il Papa dice basta con i combustibili fossili. Il Papa incolpa le compagnie di combustibili fossili. L'azione climatica è troppo lenta. 14 dicembre 2023, titolo, Accademia Pontificia su COP28. Piacevolmente sorpresa, ma serve molto di più. Chissà cosa sarà. 13 dicembre, nuova bozza prevede la transizione dai combustibili fossili. La COP deve riconoscere che è giunto il tempo di fermare l'espansione delle zone sacrificate. Riconoscere il nuovo peso del debito climatico e chiedere la fossilizzazione dei combustibili fossili per dare al pianeta e a tutti gli esseri che lo abitano un giorno di riposo necessario. Cito, perché i cattolici dovrebbero disinvestire dalla plastica nei loro armadi? L'appello a disinvestire dai combustibili fossili e da tutti i loro prodotti è sacro e si trova nelle fondamenta della nostra fede. Chissà di quale Bibbia. Chissà. Dobbiamo venerare, rispettare e santificare la Terra e la sua equilibrata rete di vita. Potrebbe essere che questo movimento inaugurerà il riposo domenicale come giornata senza combustibili fossili? Il nostro peccato più grande sono le emissioni. Dobbiamo pentirci per il cambiamento climatico. Cattivoni. Trivellare e bruciare combustibili fossili, compreso il gas, è un peccato. Dobbiamo ridurre il nostro peccato di emissioni entro il 2030. Cito. Grazie al giorno di riposo in Israele, le emissioni di gas serra sono ridotte di un terzo e sono quasi zero durante lo Yom Kippur. Se ogni denominazione del popolo ebraico santificasse veramente il giorno di riposo per non consumare, e questo esempio è seguito da altre fedi, potremmo ridurre le emissioni. È tutto connesso. Cito Domenica Lenta, la semplice soluzione al riscaldamento globale. Qualcosa che possiamo fare facilmente per raggiungere questo obiettivo è di dichiarare la Domenica come giornata senza combustibili fossili. Possiamo tranquillamente chiudere i supermercati. Vieteranno la compravendita di Domenica. Possiamo chiudere facilmente supermercati, grandi magazzini e stazioni di servizio. Possiamo ridurre la nostra mobilità allo stretto necessario e senza danneggiare in alcun modo l'economia. Di Domenica non si compra né si vende. Ora cito l'Agenzia Internazionale per l'Energia, IEA. Molte organizzazioni chiedono una riduzione dell'uso di combustibili fossili, ma sarà un compito enorme raggiungere tale obiettivo. L'Agenzia Internazionale per l'Energia suggerisce le Domeniche senza auto per ridurre la domanda petrolifera. Si arriva sempre alla stessa conclusione. Cito. La soluzione al riscaldamento globale è semplice. Rallentare. Lento è bello. Anche se non possiamo rallentare ogni giorno, almeno facciamolo la domenica. Almeno la domenica potremo essere cittadini anziché consumatori. Questo è il progetto verde del giorno di riposo. Green Sabbath Project. Si parla di un giorno di riposo universale. Io ho avviato il Green Sabbath Project per sfruttare il potere dello Shabbat o Sabbat, un giorno di riposo una volta alla settimana, che offre una soluzione olistica e produttiva potenzialmente molto fruttuosa. Un giorno universale di riposo, un eco-Sabbat o settimanale. Shabbat o Sabbat adeguatamente praticato offre un'interruzione settimanale dalla frenesia suicida di crescita infinita. Offre un disinvestimento settimanale dai combustibili fossili. Offre un investimento settimanale nella comunità locale. Per la Bibbia, quale giorno di riposo spingeranno? La domenica. Apocalisse capitolo 13. Apocalisse 13, verso 13. E faceva grandi prodigi, facendo persino scendere fuoco dal cielo sulla terra. Ma è un inganno. Nel versetto 14, fanno un'immagine alla bestia. Nel versetto 15, ha il potere di dare vita all'immagine della bestia. L'immagine della bestia dovrebbe parlare e far sì che tutti coloro che non la adorano vengano uccisi. Calamità e il fuoco. Ricorda il libro di Giobbe. Loro incolperanno Dio per le calamità. E guidano il popolo alla falsa adorazione. Ci sarà un falso giorno di adorazione universale. Versetto 12. Si parla dell'America protestante, che esercita tutta l'autorità della prima bestia davanti a lei, e faceva sì che la terra e i suoi abitanti adorassero la prima bestia, la cui piaga mortale, era stata guarita. Il Papa ci ha già detto quale sarà la soluzione. La domenica. E la chiama conversione ecologica. Niente di nuovo qui. Il Papa chiede la conversione ecologica per curare la terra e i poveri. Entro il 2030. Vieteranno la compravendita. Cito. Modifica il tuo stile di vita per salvare il pianeta. Il Papa incolpa l'Occidente, l'America. Proprio come dice la profezia. La legge domenicale inizierà in America. Ciò che loro usano per ingannare l'umanità, per imporre il giorno di riposo domenicale attraverso la legge, Dio userà il combustibile fossile per distruggere i peccatori impenitenti. Cito. Quegli alberi maestosi che Dio aveva fatto venire sulla terra a beneficio degli abitanti del vecchio mondo, che essi trasformavano sempre in idoli per corrompersi, Dio ha conservato nella terra, sotto forma di carbone e petrolio, i combustibili fossili da usare come Suoi agenti nella distruzione finale. Come Dio chiamò le acque, nel tempo del diluvio, come armi del suo arsenale per compiere quella distruzione della razza prediluviana, allo stesso modo, alla fine dei mille anni, Dio userà i fuochi della terra come sue armi per distruggere i malvagi impenitenti. Ciò che Dio farà sarà una vendetta. Le piaghe, fuoco e zolfo, quindi, appena prima che Dio faccia questo, deve esserci un movimento contro i combustibili fossili. Quel movimento è qui, quindi viviamo negli ultimi giorni. Sottotitoli e doppiaggio, Carlo Fanni Au re Spiel Grazie a tutti